Il 30 dicembre del 1922 viene fondata l'Unione Sovietica, primo stato socialista della storia, evento che segna la vittoria finale del comunismo bolcevico guidato da Lenin nella guerra civile in Russia. L'Unione Sovietica succede quindi all'impero russo, ma la sua estensione territoriale sarà inferiore adesso per via dell'indipendenza di Polonia, Finlandia e degli stati baltici, quindi Estonia, Lettonia e Lituania. Dopo la morte di Lenin, avvenuta il 21 gennaio del 1924, all'interno del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, PQUS, si scatena una lotta tra i sostenitori di due orientamenti politici opposti. I militanti guidati da Trotsky sostengono infatti che il comunismo avrebbe dovuto allargarsi ai paesi a capitalismo avanzato, soprattutto l'allora Repubblica di Weimar, favorendo così l'insurrezione armata della classe operaia di quei paesi per schiacciare non solo i capitalisti ma anche i contadini concepiti come intrinsecamente contro-rivoluzionari. La fazione guidata da Stalin invece, preso atto del fallimento dei moti del 1919 in Germania e Ungheria, e in contrasto con il principio marxista della rivoluzione globale, teorizza invece la necessità del socialismo in un solo paese, ossia di consolidare e salvaguardare la rivoluzione appena compiuta all'interno dei territori dell'Unione Sovietica. Ricordiamo che nel 1922 Stalin è segretario generale del comitato centrale del PQS, che è la più alta carica amministrativa del partito. Trotsky accusa Stalin di burocratizzazione e autoritarismo, e assieme alla crescente opposizione creata sin seno al partito sostiene che vi sia la necessità di un rinnovamento democratico all'interno degli organi dirigenti, che sempre più di frequente vengono scelti ignorando il criterio elettivo. Trotsky esprime queste sue posizioni durante il XIII congresso del partito nel maggio del 1924, ma la sua linea viene sconfitta e lo stesso Trotsky viene accusato dai triunviri, quindi Stalin, Kamenev e Zinov, di frazionismo, ossia di voler dividere il partito, cosa che è in aperto contrasto con la direzione monolitica presa dalla dirigenza durante il X congresso nel pieno dell'emergenza della guerra civile, che non permetteva la formazione di alcuna corrente. Le tesi staliniane trionfano infine nel 1926, quando il comitato centrale si schiera a favore delle posizioni dello stesso Stalin, isolando Trotsky e gli stessi Kamenev e Zinov, che nel frattempo erano passati dalla sua parte. In questi anni tutte le opposizioni interne al partito, ad esempio quella di Alexandra Kollontai, che si batte contro la burocratizzazione per il ritorno alla democrazia dei Soviet, o anche quella di Trotsky, vengono attaccate e ridotte al silenzio con l'intimidazione e la persecuzione, che si spinge fino all'irruzione delle sedi di partito che ospitano riunioni delle opposizioni, con la devastazione delle stesse e il pestaggio degli intervenuti. Partendo dall'interpretazione leninista del concetto marxista di dittatura del proletariato, espresso dallo stesso Lenin nel saggio intitolato Stato e rivoluzione, pubblicato nel maggio del 1918, Stalin fa ricorso con sempre maggior frequenza alla violenza. Ricordiamo che l'interpretazione leninista del concetto di dittatura del proletariato prevede che dopo il successo della rivoluzione e prima della realizzazione di una società comunista compiuta, sia necessaria una fase politica di transizione in cui i lavoratori, usando i mezzi dello Stato appena conquistato, annientino la resistenza della minoranza capitalista sconfitta. Una volta svolto questo compito, lo Stato potrà finalmente dissolversi. Di fatto però, la logica di governo staliniana muove la nazione in direzione opposta, con una crescita abnorme dell'apparato repressivo e terroristico dello Stato e con la nascita e lo sviluppo del cosiddetto culto della personalità attorno alla figura dello stesso Stalin. Ricordiamo che con l'espressione culto della personalità si intende una forma di idolatria sociale che solitamente si configura nell'assoluta devozione a un leader politico e religioso che passa dall'esaltazione del suo pensiero e delle sue capacità fino ad arrivare all'attribuzione a esso di doti semidivine. Nel 1928 ha così inizio la cosiddetta Era di Stalin, in cui le vicende legate alla sua persona si identificano con la storia dell'Unione Sovietica, della quale diviene onnipotente artefice fino alla morte. Uno dei primi provvedimenti messi in atto da Stalin è l'abolizione della NEP, acronimo di Novaia Economiceskaya Politica, in italiano Nuova Politica Economica. Ricordiamo che la NEP è un sistema di riforme economiche in parte orientate al libero mercato che Lenin aveva istituito nel 1921 e che doveva rappresentare una soluzione temporanea con lo scopo di porre rimedio ai disastri economici del comunismo di guerra e della guerra civile russa. La NEP aveva ripristinato la proprietà privata in alcuni settori dell'economia, in particolare nell'agricoltura, permettendo ai contadini di vendere i propri prodotti sul libero mercato nazionale fatta salvo alla parte che spettava lo Stato. Sebbene l'industria fosse al contrario totalmente nazionalizzata, si introduceva il concetto di autosufficienza e autonomia aziendale. La NEP, per quanto necessaria, veniva considerata dallo stesso Lenin un passo indietro nella corsa verso il socialismo. Riferendosi alla condizione prevalentemente agraria della Russia del tempo, con una piccola popolazione urbana e operaia che non permetteva un passaggio alla società pienamente socialista, Lenin aveva sostenuto che la Russia ancora non era abbastanza civilizzata per il socialismo. Stalin ritiene invece che i tempi siano maturi per porre fine alla NEP e nel 1928 dà avvio al primo piano economico quinquennale, che si concentra sullo sviluppo dell'industria pesante. Mentre il mondo capitalistico sta attraversando gli sconvolgimenti della Grande Depressione, in Unione Sovietica la produzione aumenta considerevolmente e così il reddito nazionale, la metà del quale viene destinato allo sforzo di trasformare un paese povero e arretrato in una grande potenza industriale. Vengono così importati un gran numero di macchinari e attrezzature dall'estero e con essi arrivano decine di migliaia di tecnici stranieri. Gli operai passano in pochi anni dal 17% al 33% della popolazione e intere città sorgono per ospitare la nuova forza lavoro. Allo stesso tempo viene messa in piedi una fitta rete di scuole per debellare l'analfabetismo e formare i nuovi tecnici. Anche il secondo piano quinquennale, quello del 1933-1937, dà la precedenza all'industria, che compie un ulteriore balzo in avanti, al contrario dell'agricoltura la cui produttività invece scende. Nel 1936, in concomitanza con l'entrata in vigore della nuova Costituzione, viene quindi modificata la rigida regolamentazione del settore agricolo. Questi successi in campo economico corrispondono però a un ferreo autoritarismo dal punto di vista politico e sociale. Ogni dissenso ideologico viene bollato come complotto e le terribili purghe degli anni 30 vedono la condanna a morte o a lunghi anni di carceri di quasi tutta la vecchia guardia bolscevica. Secondo stime del KGB, la polizia segreta sovietica, rese note dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, le condanne a morte per reati politici sono poco più di 1000 nel 1936, oltre 353.000 nel 1937, poi 328.000 nel 1928 e 2552 nel 1939, per un totale di 786.000 circa tra il 30 e il 53. Quindi 786.000 condanne a morte per reati politici dal 30 al 53, anche se per molti storici i veri numeri sarebbero molto più elevati. Stalin giustifica questo bagno di sangue con il timore di complotti e di moti reazionali, nonché con il sospetto della presenza di una quinta colonna borghese fascista nei vertici dell'esercito. Ricordiamo che con l'espressione quinta colonna si indica un infiltrato, ovvero chi è all'interno di un gruppo o di un territorio opera segretamente a favore di una parte avversa. Nel 1927 lo psichiatra russo Vladimir Bechterev visita Stalin e gli diagnostica una sindrome paranoide. Poco tempo dopo lo stesso Bechterev muore in circostanze mai chiarite. Le purghe staliniane privano l'armata rossa di oltre la metà dei suoi comandanti più prestigiosi e il partito dei dirigenti della generazione rivoluzionaria, molti dei quali compagni d'armi di Lenin. Lo stesso Trotsky verrà assassinato da un sicario nel 1940 a città del Messico dove si trovava in esilio da più di un decennio. Dei 139 membri e supplenti del comitato centrale del partito, eletti al XVII congresso del 1934, 98 vengono arrestati e fucilati nei due anni successivi. Dei 1966 delegati con delitti di voto, 1108 vengono arrestati con l'accusa di delitti contro rivoluzionari. La maggior parte degli storici ha però riabilitato le vittime dello stalinismo sostenendo che non sia mai esistito alcun complotto militare fascista, come lo chiamava Stalin, nell'esercito e alcun complotto contro rivoluzionario all'interno del partito. Nel 1934 l'Unione Sovietica viene ammessa dalla Società delle Nazioni dove avanza proposte di disarmo generale e cerca di favorire una collaborazione in senso antifascista sia tra i vari paesi sia al loro interno. Secondo quella che è passata la storia come politica dei fronti popolari. Nel 1935 l'Unione Sovietica stringe patti di amicizia e reciproca assistenza con la Francia e la Cecoslovacchia e l'anno successivo appoggia militarmente la Spagna Repubblicana in lotta contro Franco. Ricordiamo che la Società delle Nazioni, di cui abbiamo appena parlato, conosciuta anche come Lega delle Nazioni, è stata la prima organizzazione intergovernativa avente come scopo quello di accrescere il benessere e la qualità della vita degli uomini, soprattutto cercando di prevenire le guerre sia attraverso la gestione diplomatica nei conflitti sia attraverso il controllo degli armamenti. Fondata il 28 giugno del 1919 con la firma del Trattato di Pace di Versailles, si estingue il 19 aprile del 1946 per aver chiaramente fallito nella sua missione di prevenire i conflitti internazionali. Gli accordi di Monaco del settembre del 1938 costituiscono però un duro colpo per la politica estera di Stalin, che per lunghi mesi aveva inutilmente cercato di accordarsi con Inghilterra e Francia per garantirsi il loro aiuto in caso di attacco tedesco. Ricordiamo che gli accordi di Monaco seguono la conferenza di Monaco del 29 e 30 settembre del 1938, cui partecipano i capi di governo di Regno Unito, Francia, Germania e Italia, al fine di discutere le rivendicazioni tedesche sulla porzione di territorio cecoslovacco abitato dai sudeti, una popolazione di etnia tedesca. I colloqui si concludono con un accordo che decide l'annessione di vasti territori della Cecoslovacchia da parte dello Stato tedesco e poiché i rappresentanti cecoslovacchi non vengono fatti partecipare alle trattative, il trattato passerà alla storia come il diktat di Monaco. Nel maggio del 1939, alla vigilia della seconda guerra mondiale, Stalin sostituisce il commissario del popolo agli affari esteri Litvinov, colpevole di essersi sbilanciato troppo nel cercare un'alleanza a tre con Gran Bretagna e Francia e quindi lo sostituisce con Giaceslav Molotov. Pochi mesi dopo, il 23 agosto del 1939, l'Unione Sovietica firma il celebre patto Molotov-Ribbentrop con la Germania nazista. Si tratta di un trattato di non aggressione tra le due potenze voluto da Stalin, che dubbioso sulle reali volontà e capacità delle potenze europee occidentali di opporsi all'espansionismo aggressivo della Germania nazista e paventando allo stesso tempo il sostegno di Francia e Inghilterra a Hitler per costruire un unitario fronte anticomunista, decide di contenere la spinta tedesca verso est e di lottarla verso ovest per guadagnare tempo e rafforzare le sue forze armate in vista di un conflitto che pare comunque inevitabile. Per quanto riguarda gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, vi rimando appunto al video sulla Seconda Guerra Mondiale che trovate su questo canale, mentre in questa sede ricordiamo che dopo un cedimento psicologico iniziale di fronte all'inaspettato attacco tedesco, Stalin riesce a organizzare e guidare con successo l'armata rossa nella durissima lotta contro la Germania nazista che stava mettendo in pericolo la sopravvivenza stessa dello stato bolscevico. Le perdite dell'Unione Sovietica durante il conflitto sono enormi, quantificabili in circa 9 milioni di militari e 16 milioni di civili, in parte a causa delle disastrose sconfitte iniziali e in parte dovute alle straordinarie dimensioni delle battaglie sul fronte orientale. La Germania infatti impiega gran parte delle sue forze armate in Russia subendo anch'essa gravissime perdite, pari a quasi 4 milioni di militari, cioè oltre l'80% del suo totale su tutti i fronti. Stalin, il cui nome in codice come comandante militare è Vasiliev, guida le forze armate con determinazione e grande energia anche nei momenti di gravissima crisi, come ad esempio durante gli eventi di Mosca del 41 e di Stalingrado dell'estate del 42. Complessivamente l'Armata Rossa svolgerà un ruolo decisivo nella sconfitta di Hitler e del nazismo, in un primo momento riuscendo a non crollare sotto gli attacchi tedeschi, infliggendo loro sostanziali perdite e successivamente passando all'offensiva negli anni 1943-1945 con le operazioni passate alla storia come i Dieci Colpi di Maglio, secondo la terminologia staliniana dell'epoca, che portano alla conquista finale della capitale tedesca da parte dell'Armata Rossa nel maggio del 1945 e alla resa della Wehrmacht. Tra il 4 e l'11 febbraio del 1945, in previsione della vittoria alleata, si era tenuta la Conferenza di Yalta, il più famoso degli incontri fra Stalin, Churchill e Roosevelt, durante la quale erano state prese alcune decisioni importanti sul proseguimento del conflitto, sull'assetto futuro della Polonia e sull'istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Lo svolgimento della conferenza e le sue conseguenze hanno dato luogo ad accese controversie tra gli storici, mentre alcuni considerano l'evento come l'origine della guerra fredda e della divisione dell'Europa in blocchi contrapposti, soprattutto a causa dell'aggressivo espansionismo sovietico, secondo altri essa rappresenta l'ultimo momento di reale collaborazione tra le tre grandi potenze, i cui risultati sarebbero stati vanificati da una serie di decisioni prese da parte occidentale. In seguito agli accordi di Yalta, l'8 agosto del 1945, l'Unione Sovietica dichiara guerra al Giappone, nonostante sia ancora in vigore il patto di non-aggressione del 1941. E il giorno successivo vengono inviati un milione di soldati veterani del fronte orientale in Manciuria, dove sono a distanza circa 700.000 giapponesi. Nell'arco di una settimana le truppe sovietiche occupano la Manciuria, la Corea settentrionale e l'isola di Sachalin. Il 23 agosto, nonostante l'aspra resistenza, cadono anche le Kurili, un arcipelago di 60 isole situato tra l'estremità nord-orientale dell'isola giapponese di Hokkaido e la penisola russa della Kankaccia. Per quanto riguarda gli anni del dopoguerra, anche successivi all'era di Stalin, vi rimando nuovamente all'episodio su questo canale dedicato alla guerra fredda. In questa serie ci limitiamo a dire che il primo dopoguerra vede l'Unione Sovietica è impegnata su un doppio fronte, quello della ricostruzione del paese e quello dell'ostilità verso l'Occidente, che portano Stalin a irrigidire ulteriormente il monolitismo del Partito Comunista. In occasione della guerra di Corea, pur restio a intervenire direttamente nel conflitto, Stalin invia all'alleato Kim Il-sung forniture alimentari, mezzi corazzati e circa 26.000 soldati. Si tratta di un intervento molto limitato se confrontato con quello della Cina, che invia oltre 780.000 soldati. Durante la guerra civile greca, l'Unione Sovietica rispetterà i patti firmati con le potenze alleate e non supporterà i comunisti ellenici, lasciando che Gran Bretagna e Stati Uniti, sempre nel rispetto dei patti che dividevano l'Europa in aree di influenza, fornissero aiuti al governo di Atene nella repressione dell'insurrezione comunista. In sostanza, Stalin lascia mano libera agli occidentali in Grecia e in Italia, ma pretende che gli occidentali facciano altrettanto sulle questioni dell'Europa orientale. In un momento imprecisato tra il 28 febbraio e il 1 marzo del 1953, il 74enne Stalin subisce un colpo apoplettico nella sua villa di Kunzevo, ma le guardie di Ronda davanti alla sua camera da letto non osano forzarne la porta blindata fino alla sera del 1 marzo, quando Stalin è già in condizioni disperate, con metà del corpo paralizzata e privo dell'uso della parola. Stalin morirà pochi giorni dopo, all'alba del 5 marzo, maledicendo i funzionari comunisti giunti al suo capezzale in quanto convinto di essere vittima di una congiura. Alcuni storici hanno accettato l'ipotesi dell'assassinio per avvelenamento, mentre altri la smentiscono categoricamente per mancanza di prove. Dopo essere stato imbalsamato e vestito in uniforme, il corpo del leader viene esposto al pubblico nella sala delle colonne del Cremlino, dove era già stato esposto Lenin, e almeno 500 persone muoiono schiacciate nel tentativo di rendergli omaggio. Oltre un milione di persone partecipano al suo funerale e verrà infine sepolto accanto a Lenin nel mausoleo sulla Piazza Rossa. Alla sua morte la popolarità di Stalin presso tutti i partiti comunisti al mondo è ancora intatta. Palmiro Togliatti, leader del Partito Comunista Italiano, lo definisce un gigante del pensiero, e il socialista Sandro Pertini lo commemora in Parlamento in qualità di capogruppo del suo partito. Citiamo le sue parole, si resta stupiti per la grandezza di questa figura che la morte pone nella sua giusta luce. Uomini di ogni credo, amici avversari, debbono oggi riconoscere l'immensa statura di Giuseppe Stalin. Egli è un gigante della storia e la sua memoria non conoscerà tramonto. Alla fine degli anni 50 viene reso pubblico il discorso tenuto dal nuovo segretario del Comitato Centrale del PQS, Nikita Khrushchev, durante il ventesimo congresso del partito, che condanna ufficialmente gran parte delle scelte politiche di Stalin, a cui lo stesso Khrushchev aveva peraltro preso parte. Ridimensiona il suo ruolo durante la Seconda Guerra Mondiale, riabilita alcuni degli esponenti politici condannati a morte durante le purghe e propone un radicale programma di riforme economiche e la distensione dei rapporti con l'Occidente capitalista. La linea di Khrushchev, passata alla storia come destalinizzazione, non viene accettata però da alcuni tra i molti partiti comunisti sparsi nel mondo. Tra le reazioni più clamorose, ricordiamo quella dell'Albania e della Cina, che rompono i rapporti di collaborazione con l'Unione Sovietica. Uno dei primi provvedimenti della politica di destalinizzazione è la rimozione della salma di Stalin dal museo di Lenin per essere alloggiata in una tomba poco distante sotto le mura del Kremlin. Tra le opere di Stalin che hanno avuto una notevole importanza ideologica e politica ricordiamo il marxismo e la questione nazionale del 1913, principi del leninismo del 1924, opera che avrà influenza su Antonio Gramsci, questioni del leninismo del 1926, del materialismo dialettico e del materialismo storico del 1938, il marxismo e la linguistica del 1950 e problemi economici del socialismo nell'URSS del 1952. Con la dissoluzione dell'Unione Sovietica e la conseguente disponibilità di accesso agli archivi, in precedenza segreti, gli storici hanno reperito la documentazione ufficiale di 799.455 esecuzioni tra il 21 e il 53 e di circa 2.100.000 morti nel sistema Gulag, per un totale di circa 2.900.000 vittime ufficialmente registrate. Ricordiamo che il sistema Gulag è un sistema di campi di lavoro forzato che prendono il nome dal ramo della polizia politica dell'URSS che appunto lì crea. Alcuni storici ritengono però che le cifre contenute negli archivi ufficiali siano inaffidabili. Lo scrittore russo Vadim Ehrlichman ad esempio parla di 1.500.000 esecuzioni e 5 milioni di morti nel sistema Gulag, 1.700.000 morti tra i 7.500.000 di deportati e un milione di morti tra i prigionieri di guerra e civili tedeschi, per un totale di oltre 9 milioni di vittime. Secondo il politico storico sovietico Alexander Yakovlev, direttore della Commissione per la Riabilitazione delle Vittime delle Repressioni Politiche, voluta nel 1922 dalla loro presidente Boris Yeltsin, le vittime del regime starinista ammonterebbero oltre 20 milioni. Oltre alle morti nei lager, Stalin è anche ritenuto responsabile del genocidio ucraino o holocausto ucraino, holodomor in lingua russa e ucraina che significa infliggere la morte attraverso la fame. Si tratta infatti di una carestia pianificata a tavolino tramite la requisizione sproporzionata dei generi alimentari imposta dal regime comunista dal 1929 al 1933, che secondo le più quotate ricerche accademiche in merito causa un numero di vittime compreso tra un milione e cinquecentomila e cinque milioni di individui. In Ucraina il giorno ufficiale di commemorazione del holodomor è il quarto sabato di novembre. Alcuni studiosi di correnti minoritarie, tra cui Giorgio Galli, Domenico Lo Surdo e Ludo Martens, ridimensionano le responsabilità dello starinismo, sostenendo che la maggior parte delle vittime sia dovuta agli eventi della guerra e alle carestie naturali, ossia non pianificate dal governo sovietico. Galli stima i morti nel periodo che va dal 1924 al 1953 in un numero tra 2,7 e 9 milioni, mentre Martens e altri sostengono che vi furono circa un milione e quattrocentomila morti nel periodo che va dall'inizio della guerra civile russa alla morte di Stalin, in gran parte dovuti agli scontri armati nell'ultima parte della guerra civile e nella seconda guerra mondiale e alla carenza di cibo. Durante la seconda guerra mondiale Stalin introduce regolamenti militari estremi, come ad esempio l'ordine 270 dell'agosto del 41 in cui si richiede ai superiori di sparare sul posto ai disertori e di arrestare i loro familiari. Molti degli stessi comandanti militari vengono poi giustiziati senza processo con l'accusa di codardia. Nel luglio del 42 Stalin emana poi l'ordine numero 227 per cui i soldati colpevoli di infrazioni disciplinari sono costretti a servire nei cosiddetti battaglioni penali, particolari gruppi schierati nei settori più pericolosi della prima linea. Dal 42 al 45 427 910 soldati vengono assegnati a questi battaglioni. Nella zona di occupazione sovietica della Germania del dopoguerra i sovietici realizzano 10 campi speciali subordinati al gulag, solitamente nelle ex prigioni o ex campi di concentramento nazisti come Sakenhausen e Buchenwald, dove, secondo le stime del governo tedesco, perdono la vita 65.000 prigionieri. Secondo dati recenti, dei circa 4 milioni di prigionieri di guerra in mano i sovietici, tra cui tedeschi, giapponesi, ungheresi, rumeni e altri, 580.000 rimangono vittime della malnutrizione o delle condizioni di vita dei campi di lavoro. Gli stessi prigionieri di guerra russi che sopravvivono alla prigionia tedesca vengono poi sottoposti al cosiddetto transito speciale o filtrazione, un procedimento pensato dall'amministrazione sovietica al fine di determinare se tra essi si nascondessero dei traditori.